Mi chiamo Massimiliano Ceravolo, sono direttore della nuova divisione di Canon Italia che si chiama Professional Imaging, una divisione che abbiamo costituito all'inizio di questo 2013 con uno scopo molto preciso, quello di sviluppare il business di Canon in diversi settori professionali. Questa è la ragione per cui oggi siamo qui in questo convegno, in questa manifestazione della SIEC dove di recente Canon ha anche preso parte all'associazione perché abbiamo finalmente decretato all'interno dell'azienda delle linee molto precise di sviluppo in ambito visual communication che per Canon oggi significa essenzialmente tre linee di prodotto, videoproiezione quindi con diversi livelli di proiettori, visual communication per noi è anche network camera, quindi camere destinate ad applicazioni differenti a seconda degli scopi delle entità di utilizzo e infine la novità di questi giorni, dopo un grande successo sulla linea video con la gamma Cinema EOS, in questi giorni stiamo proponendo per la prima volta un monitor 4K che non è un monitor standard ma è un monitor che nasce per il color da mute, per il color grading quindi per tutte quelle che sono i processi operativi di post produzione per calibrare e tarare in maniera opportuna il grado di calore e il grado di luce. Questi sono i driver principali che ci hanno accompagnato in questa prima attività con SIEC e quindi oggi in questa manifestazione siamo qui per far capire come posizioniamo l'offerta di Canon, a chi ci rivolgiamo, quali target di utenti stiamo maggiormente guardando in questo momento e soprattutto più che guardare stiamo cercando di interpretare quelle che sono le più recenti esigenze di mercato appartenente al settore e quindi in questo momento facevano allí, quindi quest'opportunità hai dovuto farePatrick e questa è laursa che ci sono bello in questo momento cost brainsario? TBravo come dicevi Grazie a tutti